Fai Daniele! Fai Daniele! E' commossa! Quando ci scaldavamo, anche mentre si giocava era un continuo a dire... Dalla parte di Tifosi da Provercelli, poi nel secondo tempo dove ero là, continuo a dire falliti, ora viviamo i soldi per stare a casa, con battute un po' stupide e poco eleganti. Non siamo da Serie B, siamo da Serie A! Poi invece lo batte Berdolucci, colpo di testa... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Vieni! Ma vieni! Ma vieni 1-1! Ma vieni no! Ma vieni no! Ma vieni! 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 Gooooooooooooh! Eeeeeeeh! Go! 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 ...finiti di doppio di un calcio ad angolo, al torazio, parte in cross, palla in aria, colpo di testa! Rete! Rete gli spartani! Annullato! 2-1! Annullato! Vogliamo il gol! Vogliamo il gol! Vogliamo il gol! Go! 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 La curva del Taranto che canta, squarcia gol, a parte il traversone palla e le vedi rigore, attenzione! Poi c'è Chiavetti che la mette nel mucchio! Girardi! Rete! Annullato anche questo! ando ha mo' a salveenn inclusive lakiose, alla montagna, alla costata del palco per Giu-Giu-Rate! Giu-Giu-Giu-Giu-Giu-Giu-Giu, dazzito chiede-barr Millennium! Vi A Dio e c'è il padre Dino Rosso per questo pallo subito da alla sedicesima sentite sentite quelli di Vercelli un po' di puttana che cazzo ha preso un po' di puttana che cazzo ha preso ecco qui il signor Pietro Iemmello nato nel 1992 già vent'anni sto ragazzo calabrese, meridionale contro i suoi conterranei perché siamo tutti meridionali e lui fa un gesto di un dito così così, ti vedi? hai suoi conterranei ma perché? ma perché? secondo me anche lo stesso Iemmello sono caricato troppo dall'ambiente e forse dalla sua stessa società perché per fare un gesto del genere da 19 anni, 20 anni è gratuito vediamo, probabilmente sono così spavagli e così battaglieri da avere lo stesso atteggiamento a Taranto siamo curiosi un po' tutti di vedere che atteggiamento avranno qua sinceramente la curiosità è c'è